L'ultimo uomo è una figura antropologica che troviamo tematizzata nella filosofia di Friedrich Nietzsche, è una figura che permette, io credo in prospettiva, di fare luce sull'odierno nichilismo pienamente realizzato, su quell'ospite più inquietante rispetto al quale lo stesso Nietzsche ci aveva messo in guardia nel suo secolo, nell'Ottocento. L'ultimo uomo, in estrema sintesi, così viene presentato in Così parlo Zaratustra da Nietzsche, è colui che è perfettamente informato circa la morte di Dio, l'evento epocale che traccia il destino dell'uomo moderno, e che dalla consapevolezza della morte di Dio ricava la conseguenza per cui una volta morto Dio tutto è possibile, non vi sono più valori né ideali nei quali identificarsi, ma diventa perciò stesso possibile commettere ogni genere di crimine, potremmo dire, diventa possibile godere illimitatamente nella volgarità del mondo privato di ideale, di passione utopica e di valori. L'ultimo uomo, in estrema sintesi, la figura antropologica pienamente realizzata nell'odierno capitalismo assoluto, è cioè colui che non crede più in niente, ha smesso di credere in Dio e dunque nei classici valori in cui si era identificato l'uomo occidentale, di cui Dio rappresentava in qualche modo la sintesi suprema, e dopo aver smesso di identificarsi in questi valori, può proiettarsi cinicamente nell'individualismo spasmodico del godimento illimitato e acefalo, può proiettarsi nell'inseguimento insensato e autoreferenziale del piacere fine a se stesso, in una sorta di perversa adesione all'istante del puro presente seriale senza continuità e senza progettualità futura. L'ultimo uomo, dice Nietzsche nello Zaratustra, è colui con il cui avvento tutto diventerà più piccolo. Quando l'ultimo uomo saltellerà sulla terra, essa si rimpicciolerà estremamente, dice Nietzsche. Perché l'ultimo uomo è quella figura al cui cospetto tutto diventa piccolo. Una vogliuzza al giorno e una alla notte, fatta salva la salute, dice Nietzsche. L'ultimo uomo non crede nulla, nessun ideale, nessun orientamento valoriale su tutto il giro d'orizzonte. Egli si proietta nella pura insensatezza del nichilismo. Non c'è più un senso, non c'è più una meta, non c'è più una risposta alla domanda perché, verso dove. Questo è il paesaggio nichilistico pienamente realizzato oggi, in cui viene meno il senso stesso della domanda intorno al senso. Heidegger sulla scia di Nietzsche parlerà di Weltnacht, la notte del mondo, in cui diventa tutto talmente buio che non si riesce nemmeno più a vedere il fatto che si è nel buio, potremmo dire. Ecco, questo è il nichilismo pienamente realizzato con la sua produzione in serie di ultimi uomini, le figure antropologiche oggi dominanti. Sempre nello Zaratustra, quando tratteggia la fisionomia perversa dell'ultimo uomo, Nietzsche parla di greggia morfo. Parla di un greggia in cui tutti pensano e vogliono le stesse cose, in cui non vi è alcun pastore e in cui non appena qualcuno osi pensare diversamente, subito viene diffamato ed è costretto ad andarsene da sé al manicomio. È la società di massa pienamente realizzata, la società in cui ancora, per dirla con Heidegger, nessuno è se stesso e ciascuno è gli altri, in cui si pensa, si crede, si vive, secondo il dominio del sì, del man, nel tedesco di Heidegger, del sì passivo, dell'impersonalità anonima del sì. Questa è la società di massa nichilistica pienamente realizzata oggi, in cui, per dirla in maniera convincente, credo, anche oltre le analisi di Nietzsche e di Heidegger, non vi è più nulla di grande in cui sperare, né vi è una capacità di contestare l'alienazione pienamente realizzata nell'odierno nichilismo. Ecco allora che il greggio amorfo degli ultimi uomini, anziché lottare per un'utopia redentiva, anziché battersi per un'emancipazione a venire, anziché adoperarsi per un'ulteriorità nobilitante, si mettono tristemente in coda, come un greggio, per entrare in possesso dell'ultimo cellulare di nuova generazione, il meglio che la religione dei consumi possa vendere l'oro. Cioè, anziché rovesciare il mondo che li vede prigionieri a tempo determinato, precari, disoccupati, essi si mettono placidamente in coda per prendere parte euforisticamente a questa miseria divenuta mondo. Questo è lo scenario pienamente realizzato degli ultimi uomini in cui ci troviamo e credo che le analisi di Nietzsche siano effettivamente profetiche nel descrivere questa situazione di cui Nietzsche aveva già visto l'albeggiare nel suo tempo e che oggi soltanto può dirsi pienamente realizzata nell'odierna notte del mondo dell'ultimo uomo.